Buongiorno a tutti, io sono Maria Palermo, sono una delle docenti idonee, ma non vincitirice, così ci ha etichettato il Ministero del concorso PNRR 2023. Come dicevo parlo a nome di tutti i docenti che come me chiedono almeno di avere una gradatoria di merito, cosa che oggi non abbiamo, non conosciamo la nostra posizione in gradatoria e saremo costretti, secondo il Ministro, a rifare il concorso a novembre, questo è ingiusto, per quanto mi riguarda ho superato un orale riportando una votazione di 100, l'ho scritto con 90 e a novembre devo essere risottoposta e rivalutata secondo le stesse modalità, questa è una pura ingiustizia, la meritocrazia non viene riconosciuta, chiedo a nome di tutti al Ministero di prendere dei seri provvedimenti e che ci possa rispondere in maniera tempestiva.